59. Minorità evolutiva. 95 milioni di piccoli soldati, di manovali, braccianti, di bambini che maneggiano bombe e mitra, più grandi di loro, cazzuole e picconi pesantissimi per le loro braccia, aratri e badili. Ma 95 milioni sono solo i baby lavoratori ufficiali, in realtà sono molti di più, diverse centinaia di milioni. Così, in alcuni stati asiatici, africani e dell'America Latina, metà dei teenager invece della scuola frequenta le guerre locali, le officine, i campi agricoli, i pascoli, ma anche i bordelli e le miniere. Commento. Finché quei paesi non usciranno dalla loro minorità evolutiva e quindi sociale e quindi politica, in quei paesi non cesseranno di incarnarsi entità che diventeranno bambini lavoratori. Grazie. 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 Grazie.